Gioao Mario Prima di tutto bisogna fare complimenti a Spalletti, all'allenatore, allo staff, allo stesso tempo anche al giocatore che ha dimostrato grandissima professionalità nonostante un'estate molto incerto, fatte di incertezza perché era dato per partenza, poi la società ha dichiarato che non lo voleva vendere, una volta sì, una volta no Vabbè, complimenti a tutti perché questo è il risultato del lavoro prima di tutto e poi parlando di quello che è stato il contenuto della sua gara, un giocatore che messo in questa predisposizione lì ossia nei tre di centrocampo, non tanto da trequartista fisso ma nei tre assieme a Vessino e a Brozovic ha trovato un certo equilibrio perché portando via spesso l'avversario ha permesso più che altro anche a Brozovic di poter esprimersi ancora di più di quello che si stava esprimendo ultimamente e poi con i suoi movimenti ha dato anche delle soluzioni, delle alternative a quello che poteva essere il tradizionale, diciamo così, giro palla e il gioco dell'Inter Gianluca, anche la tua opinione su João Mario e su questo suo riintegro nella formazione di Spalletti? Ma credo che sia giusto così, che chi fa parte della rosa, dell'organico, deve farsi trovare sempre pronto l'allenatore se vuole tutti pronti deve anche ogni tanto sorprendere gli stessi giocatori anche se stesso a volte cambiando, metto il coraggio di mettere un giocatore che magari era stato utilizzato meno questa è sicuramente una bravura di Spalletti, merito anche del giocatore che si è fatto trovare il punto e ha invogliato l'allenatore a fare questo tipo di scelta perché come dicevo prima poi le scelte sono frutto sempre di quello che il mister vede in allenamento e quindi insomma, João Mario avrà avuto modo di farsi notare in allenamento e poi dimostrare le sue qualità a questo punto anche in campo, l'abbiamo detto e quindi vediamo se tornerà protagonista anche contro il Genoa per quel che riguarda la partita di Salvatore 15 Spalletti ha reinventato l'Inter, ha ridisegnato l'Inter, la notizia secondo me è più quella perché Spalletti che vedeva solo il 4-2-3-1 o al massimo in prospettiva una difesa a tre eccetera eccetera ha varato un modulo con cui non vedevamo l'Inter da tantissimo tempo questo 4-3-3, questo João Mario Mezzala a sinistra con Vesino a destra e Brozovic al centro quindi una nuova, un'idea diversa poi io sono convinto che quando Nainggolan rientrerà si farà un passo indietro si tornerà al 4-2-3-1 e Amen che poi è una variante del 4-3-3, ci sono tutte varianti io qui ho il quaderno studio adesso posso studiare si può discutere quanto si vuole sui numeri però alla fine gli equilibri tattici la capacità di andare a occupare gli spazi sono poi la chiave di qualsiasi modulo di gioco però comunque dare una nuova forma all'Inter soprattutto per mettere nelle condizioni di João Mario di esprimersi in quello che è il ruolo a lui più congeniale è stata l'idea vincente di Spalletti perché l'anno scorso João Mario all'inizio ha giocato anche dove gioca solitamente Nainggolan insomma dietro la punta e le cose a volte sono andate bene se non ricordo male con il Benevento fece doppietta João Mario l'anno scorso adesso non vorrei dire una... guardi me? stai guardando a me? Benevento Brozovic Brozovic fu... però ci fu una partita in cui fece doppietta Robottino Moretti è normale però Spalletti le fa queste cose Brozovic, l'ascesa di Brozovic è cominciata da un Inter-Napoli dello scorso anno e poi da quel momento Brozovic non si è più mosso da quella posizione quindi ripeto sono convinto che si tornerà al 4-2-3-1 quando Nainggolan tornerà in forma perché Spalletti stravede per Nainggolan e la crescita anche di Nainggolan con l'Inter è stata... giustifica questa idea di calcio quindi però ripeto è stato intelligente Spalletti a vestire questa nuova Inter soprattutto perché è un giocatore che se no rimane lì, si deprezza cioè è anche un giocatore... si è già deprezzato esatto era in Nastalina, la Nastalina era buona la migliore Inter della stagione, direttore Multinedu all'Olimpico contro la Lazio? sì, probabilmente la migliore Inter della stagione ripeto, poi tatticamente l'ha ridisegnata e aveva avuto ragione, Simone Inzaghi in qualche modo forse è rimasto spiazzato da questo assetto nuovo dell'Inter Onolà ha un po' aiutato Inzaghi con le sue scelte faccio un po' l'avvocato del diavolo mi riferisco al Kaiseido Immobile là davanti Correa in panchina, quando è entrato secondo me Correa ha dato quel passo giusto però ormai era partita mai era andata no? sì, diciamo che un pochettino ha aiutato Simone però c'è anche da dire che l'Inter probabilmente l'altra sera poteva tranquillamente vincere con chiunque, nel senso che era talmente perfetta che ha fatto una grossa gara quindi complimenti a Spalletti, un po' meno a Simone in questo momento che non sta vivendo un periodo brillantissimo con la sua squadra tra l'altro lui c'ha il quaderno, anche lui, anche Simone c'ha il quaderno c'ha il quaderno? grazie al quaderno Tecnic ti farei un filotto di trasmissioni io faccio un filotto di trasmissioni già le sto facendo già le sto facendo, vorrei riposarmi un po' però un po' dopo no, sto scherzando si scherza perché il turno in fase settimanale di B ha lasciato insomma i suoi le sue scorie ieri siamo andati in onda fino a mezzanotte 40 mezzanotte 45 con Franco Lerla abbiamo raccontato tutto il turno in fase settimanale hai scritto a Simone Inzaghi che i derby vanno affrontati io l'ho detto a Massimiliano Farris e ho detto guarda avete fatto tutti questi punti grazie al mio quaderno bravo, hai fatto bene, ti faccio la battuta insomma mi raccomando prossimo quaderno a Simone Inzaghi quando incontri la Roma fai passare già fai passare già cerchio di non darvi tutte le ditte bravo, grazie, grazie direttore fallo solo per me poi insomma è un grande allenatore e lo sappiamo il lavoro insomma che sta svolgendo è che ha fatto Simone Inzaghi vuole aggiungere una cosa per Francesco Catucci? sì, no, volevo dire che la cosa che mi ha colpito dell'Inter è stato è stato l'atteggiamento anche sul 2-0, sul 3-0 un'altra Inter molto bella è stata quella del primo tempo contro il Torino che poi però si è spenta all'improvviso proprio per un atteggiamento che non era quello giusto invece lunedì contro la Lazio l'Inter ha continuato a pressare alto ha continuato a occupare le linee di passaggio è andata proprio a mettere, a pressare a premere la Lazio nella propria metà campo e così è nato anche il gol del 3-0 quindi c'è proprio anche uno switch mentale insomma dal punto di vista tattico dell'Inter dell'atteggiamento, scusate, dell'Inter che mi ha colpito lunedì Moro, Nainggolan? sì, perché parlavate di Nainggolan del suo possibile, sempre più probabile rientro poi nelle prossime partite quindi della conseguente esclusione di João Mario dall'11 titolare a Nero Azzurro il Ninja non sta ancora benissimo quindi con tutta probabilità, anzi quasi al 100% rimarrà fuori dalla sfida contro il Genoa anche perché l'obiettivo numero uno è quello di recuperare il Ninja per le partite, chiamiamola così quella che andrà in scena martedì prossimo a San Siro contro il Barcellona valevole per la quarta giornata di Champions League con il giocatore che ovviamente come dicevamo è tornato a correre quindi questa è una buona notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi Nero Azzurri ma ovviamente ci vuole calma e soprattutto ci vuole il tempo giusto per recuperare il Ninja del tutto per questo appunto per questo motivo con il Genoa non ci sarà e si cercherà in tutti i modi di portarlo nella sfida contro il Barcellona mi dai degli aggiornamenti su Marotta visto che è considerato che per Marotta su Marotta Pedula ha di fatto il timbro con un'esclusiva ci racconta i fatti gli aneddoti in retroscena oggi ci potrebbe essere qualche altra novità oggi è arrivata l'ufficialità intanto della risoluzione contrattuale prima di lasciare la parola ad Alfredo magari diamo questo aggiornamento perché ci sono tutte le cifre della buona uscita che la Juventus ha concesso a Marotta ha 361.775 per quanto riguarda l'indenità sostitutiva di preavviso e poi ulteriori 361.775 mila euro a titolo transattivo ed incentivo all'esodo per lui e per l'avvocato Mazzia facciamo un po' il totale quant'era? 723 il totale è oltre 700 di buona uscita? sì però ha rinunciato a qualcosa? sicuramente sì perché il suo ingaggio era più alto però in totale la buona uscita è di oltre 760 mila euro 720 mila euro mi risulta che gli abbiano pagato tutti i bonus anche quelli a lunga scadenza che avrebbe maturato poi li ha presi? sì a bilancio c'era era alla voce stipendio ma poi li era diviso tra bonus e li ha presi tutti ha preso 5 milioni e la storia con l'Inter com'è Alfredo? la storia con l'Inter è quella che abbiamo anticipato il due sera la sera di Juve e Young Boys la settimana scorsa abbiamo detto aspettiamo la prossima questa che risolve poi abbiamo aggiunto Zango vorrebbe già mandarlo operativo a dicembre può darsi che sia operativo prima non ci saranno situazioni di divergenza con gli attuali dirigenti a me risulta che Ausilio abbia incassato molto bene questa situazione come avevamo raccontato semplicemente perché la convivenza tra Paratici e Marotte è una convivenza tu mi dirai l'ha portato lui benissimo però poi la convivenza deve andare è andata benissimo quindi io credo che lui sarà abile e arruolabile prima di gennaio vedremo la tempistica dobbiamo entrare a novembre io penso che i tempi per formalizzare era molto importante questo passaggio di uscita abbiamo parlato del Milan tra poco parleremo dell'Inter la provocazione che volevo fare a Scarpini è che probabilmente l'Inter e Milan hanno sbagliato modulo con i giocatori che hanno acquistato ti spiego faccio questa provocazione tecnico-tattica l'Inter ha preso un grandissimo giocatore che si chiama Lautauro e fa cognome Martinez però l'avevamo detto in estate è uno che o gioca con due punte a due punte a fianco di Cardi oppure è vero che ha fatto in passato anche l'esterno però nel 4-2-3-1 di Spalletti fa fatica e questa è un po' la risposta e quindi chi avrebbe bisogno di giocare oggi a due punte Higuain e Lautaro Martinez sarebbero perfetti dall'altra parte invece un Paquetà che può giocare dietro le due punte dietro la punta nel 4-2-3-1 e può essere comunque il vertice alto nei tre dietro la punta che ai Cardi potrebbe essere Paquetà la domanda che ti posso fare ti potrebbe fare che Paquetà serve più all'Inter che al Milan e Lautaro Martinez servirebbe più al Milan che all'Inter io non so che cosa serva al Milan su un problema del Milan io so che noi Lautaro ce lo teniamo molto stretti perché è un giocatore di grande valore che sta passo dopo passo crescendo di allenamento in allenamento e arriverà il momento in cui ci sarà spazio e occasioni per lui per potersi esprimere io ricordo a questo proposito la storia di João Cancelo perché l'anno scorso in un mese come questo in un momento come questo l'Inter veniva criticata forse giustamente perché alla luce di operazioni importanti di mercato queste non si vedevano in campo perché? perché Cancelo non giocava perché? perché aveva bisogno semplicemente di prendere il passo con il calcio italiano che era diverso da quello da cui arrivava così come è diverso il calcio da cui arriva Lautaro Martinez i movimenti che ti chiede un allenatore quindi serve tempo per poter arrivare a tutto questo e quindi ci sarà tempo e modo per gustarci anche le qualità del Toro però su questo volevo essere chiaro nella domanda se quello non fossi stato Lautaro Martinez è un grandissimo giocatore l'unico problema è che se giochi 4-2-3-1 lui è l'uno in questo momento l'uno e Icardi nelle altre posizioni fa fatica inverso invece il problema al Milan se giochi ora 4-4-2 vicino ai Guaini la Toro Martins sarebbe perfetto 4-2-3-1 un Pachetà dietro l'attaccante all'Inter che Icardi potrebbe essere perfetto era una provocazione di mercato però se tu hai politano e Perisic o Candreve e Perisic e metti Icardi e Lautaro anziché metterlo dietro lo metti un po' più avanti credi i movimenti qual è la differenza? l'Inter però ha cambiato dimensione rispetto all'anno scorso quindi quest'anno l'Inter deve avere dietro Icardi un giocatore che possa avere un certo tipo di profilo Lautaro Martinez ha dimostrato anche in quel poco che ha giocato di averlo scarpita anche la dichiarazione la parolina è giustamente che è un ragazzo che vuole giocare però nessuno va a chiedere ad Allegri se Dibala scalpita se Manzucchi ci scalpita e la Juve ha un profilo superiore a quello dell'Inter ma tu non puoi immaginarti che l'Inter di quest'anno avesse Eder con tutto il rispetto per Eder dietro Icardi l'Inter di quest'anno deve avere Lautaro Martinez deve avere Icardi secondo me col tempo deve anche avere la possibilità come fa la Juventus che oramai gioca con tre moduli e lo fa con leggerezza e con serenità di poter giocare con le due punte col 4-2-3-1 e in mille altri modi cioè io credo che davvero abbia ragione Roberto Lautaro Martinez sta bene dove sta mi auguro per il Milan che Pachetà sia un giocatore no è vero però insomma basta ce lo diamo tu te ne sei andato su Montolivo io vado via su Pachetà il Milan che è un giocatore che può giocare all'esterno dietro una prima punta darà a Gattuso delle opzioni tecnico-tattiche differenti a quelle che ha oggi molto semplicemente che non vuol dire che tu prendi un giocatore perché se no con questa logica dovresti giocare in 15 perché tutti sono indispensabili perché tu hai tre difensori fortissimi eppure giochi con due centrali non con tre e ne lasci uno fuori allora con questa logica dovresti giocare con i tre centrali dovresti metterne tre a centro campo devi mettere Lautaro Icardi però se devi fare tre o me lo fai bene e mi fai così no quello è quattro scappini come Mourinho o me lo fai così no quello è quattro scappini è sto sei ore ma non sai fare il tre non mi viene non ti viene così così non ti viene così no è quattro non riesce ma come puoi essere quattro tre fai così scusa no fai così tre che giorno è oggi 31 quasi uno perfetto lo fai alla Mourinho tre come hanno fatto ecco non ci arriva è quattro non è tre tre così alla Josè alla Josè oppure come fa Mourinho così quindi dai è il tuo allenatore il tuo allenatore preferito quello che ami stop fermi tutti abbiamo parlato troppo ci sarà un grandissimo appuntamento martedì pomeriggio ma non posso dire di più ma non posso dire di più vai di Marchetta dai no ci sarà un gran evento che stiamo organizzando una sfida inter Barcellona vecchie glorie calcio a 5 palazzo della regione spettacolo ok distruzione grazie a tutti spettacolo l'idee spettacolo Grazie.